sensibilizzare i cittadini su tematiche importanti quali quelle del randagismo, della sterilizzazione, delle leggi che puniscono gli abbandoni, fino ad arrivare all'obiettivo a lungo termine dei canili zero e dei zero cani in canile. Questo lo scopo della sottoscrizione popolare che sarà portata avanti nei prossimi giorni in città dall'Associazione Politica Mizzica, sottoscrizione a cui ha già aderito firmandola il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti. Successivamente alla strage di Contata Mucciare noi abbiamo chiesto un incontro ufficiale al sindaco Valenti. Questo incontro c'è stato, è stato un incontro propositivo, un incontro importante dove abbiamo analizzato tutte le proposte che abbiamo messo sul tavolo dell'amministrazione. Il sindaco si è dimostrato d'accordo con questa riforma strutturale, impegnandosi in tassenso, tanto che ha scelto di essere il primo firmatario di questa sottoscrizione popolare. La prossima settimana partirà questa sottoscrizione, avrà una funzione importante di sensibilizzazione riguardo a queste proposte nei confronti della gente, saremo nei luoghi di lavoro, saremo nei luoghi di incontro della città perché informare la gente di questa riforma strutturale ricercando una condivisione piena nel tempo è una cosa per noi fondamentale. La cosa importante è che la gente cominci a conoscere i reali motivi di questo fenomeno e a condividerne le proposte per uscirne da comunità, perché è un fenomeno dove dal nostro punto di vista la gente non ha veramente capito sia le cause, ma la cosa importante è che capisca che insieme da comunità bisogna applicare le soluzioni reali. Parlo di una fortissima campagna di adozioni da condividere in tutto il territorio nazionale, parlo dell'esigenza della nascita di un rifugio polifunzionale, obiettivo a meno di lungo termine, un rifugio aperto, dinamico, dove sono proprio i volontari, i cittadini volontari ad essere reali protagonisti. L'obiettivo è quello di arrivare a cani di zero, molti comuni d'Italia hanno affrontato il randagismo in questa maniera, l'hanno superato, ma la cosa importante è applicare passo dopo passo tutti i punti che in questa proposta noi abbiamo elaborato. Dopo la strage tutto il tantam mediatico nazionale che si è avuto, qual è la vostra opinione sulle minacce, sulle polemiche? Sicuramente è stato un episodio che non ha fatto assolutamente bene la città, poi quello che avviene all'interno dei social network molto spesso è un'amplificazione dal mio punto di vista di malumori, di malesseri, di giudizi negativi. Sicuramente la vicenda non ha fatto bene a nessuno, dal nostro punto di vista ne usciamo bene, ne usciamo da comunità, non sbandierando il fatto che a priori sciacca una città civile, questo penso che nel 90% dei casi sia un elemento sottinteso. Ne usciremo bene se riusciremo a dimostrare che nel tempo abbiamo raggiunto un equilibrio positivo nel rapporto tra uomo e animale. Noi dobbiamo dimostrare a tutti di fare dei passi avanti come città sotto questo punto di vista. Non penso sia questo il momento di dare la risposta, la risposta giusta deve venire dopo, deve venire con i fatti e ripeto, questo punto di partenza, di condivisione tra un gruppo d'opposizione e un'amministrazione nel merito delle proposte, parlando quindi di cose concrete, dal mio punto di vista è un primo importantissimo risultato e quindi siamo contenti di questa scelta del Sindaco di impegnarsi in questa direzione. Per noi è un risultato importante.